eccoci qua buongiorno ciao Nicola ciao Marco buongiorno a te Costantino l'avevamo promesso oggi il 14 novembre in ritardo di una settimana se ricordo bene ma oggi cominciano gli stati generali e noi che stiamo facendo la cronaca di questa evoluzione involuzione poi vedremo dove andrà a finire del Movimento 5 Stelle vogliamo parlare di quello che comincia oggi con gli stati generali che è una discussione abbastanza aspera quello che si vede e si legge sui giornali su questa su questo conflitto che fondamentalmente si si basa su una parte che il Movimento 5 Stelle quello oramai nel governo nel palazzo proiettato a nomine eccetera eccetera e ha una parte come dire un pochino vecchia forse vecchia forse superata dai fatti che quella rappresentata da chi è rimasto fuori come abbiamo raccontato che oggi spinge per entrare a questione il doppio mandato e da Davide Casaleggio che è stato come dire oggetto di parricidio mi viene da dire Marco Nicola oggi Davide Casaleggio ha scritto un tweet e un post su Facebook abbastanza significativo ha detto che non parteciperà nonostante sia stato invitato ieri agli stati generali sostanzialmente per due motivi non parteciperà ah perché i giochi sono fatti le cose sono state decise di contrariamente alla narrazione che viene fatta che poi tutto viene messo al voto degli iscritti e che c'è scarsa trasparenza la mia la mia reazione ecco è quella di Nicola scarsa trasparenza la mia reazione a queste parole di Casaleggio è ha 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 ok lascio la palla a voi e poi ditemi un po cosa vedete cosa ne pensate Davide Casaleggio che parla di trasparenza è come se Giulio Andreotti avesse parlato di di trasparenza nei servizi segretti è veramente non faccio altri paragoni per evitarmi qualche citazione in giudizio ma insomma veramente divertente a Davide piace vincere facile perché perché non capisce un accidente di politica ed è un un bravo un bravo manager almeno a dar a vedere la linea dei bilanci degli ultimi anni della sua azienda e è un ragazzo che evidentemente non ha imparato nulla dalla lezione degli scacchi perché diciamo esce fuori dal campo urlando e strepitando e dicendo mi avete rubato il pallone quando la partita non non volge a suo favore detto questo detto questo io io punterei nell'analisi di quello che sarà sulla politica estera per quanto riguarda il congresso del movimento perché lo raccontavo in un pezzo uscito ieri su panorama e mi dicevano che insomma gli uomini e le donne di Davide Casaleggio dentro il movimento sono tutti filotrampiani tutti che dicono aspettiamo il riconteggio aspettiamo le indagini sui sui voti americani e tutto il resto mentre il mondo evidentemente una parte di mondo sta andando dalla parte opposta e e questa è un una linea di frattura molto forte così come la linea di frattura molto forte dentro il movimento nei confronti di Davide Casaleggio e quella è la comunicazione e mi raccontavano anche questo che ormai diciamo la nomenclatura del 5 stelle che al governo non sopporta più quella comunicazione appunto Casaleggio style quindi tutta spostata sui social tutta spostata sui video che devono fare numeri su queste due su queste due diciamo piani noi potremmo capire che cosa che cosa potrebbe diventare il movimento io penso che e ho qualche indizio in questo senso che il progetto di Luigi Di Maio che si sta riprendendo è evidente io e Marco lo dicevamo tanto tempo fa si sta riprendendo in mano il movimento o meglio la nomenclatura del movimento sarà quello di avere come obiettivo un partito assai più piccolo ovviamente punto fra l'8 e il 10 per cento un partito diciamo moderato neodemocristiano ben inserito nei gangli del potere e del sottopotere romano e non solo ben agganciato per esempio al nuovo vento che arriva dagli Stati Uniti quindi tutte le derive diciamo filorusse o filo iraniane di Davide Casaleggio verranno messe verranno messe da parte altro è il rapporto con la Cina su cui invece Luigi Di Maio da ministro degli esteri anche al Mise si è si è molto speso anche lì lo vedremo rispetto a quello che decideranno gli stati guida dell'Unione Europea quindi Germania e Francia il rapporto che avverrà con la Cina e concludo nel mio pezzo si chiudeva con con un modestissimo suggerimento a Luigi Di Maio di essere il primo esponente politico a chiamare Joe Biden non ha avuto il coraggio di farlo io al posto suo l'avrei fatto è stato immediatamente anticipato in queste ore nelle ore appena passate da Conte che ha dovuto mettere una pezza ovviamente a quel suo messaggio incredibilmente sciatto e poco rispettoso di prima di qualche giorno fa però sono queste secondo me le due sulla nomenclatura mi taccio insomma io e Marco ci abbiamo scritto un libro che si chiama Supernova proprio perché che dava l'idea di questo di questa esplosione di quel movimento che si che si diceva antisistema e che invece non vedeva l'ora di sedersi a tavola e diventare sistema e diventare sistema certo tra l'altro il tuo pezzo comincia con un ricordo secondo me molto rivelatore della mentalità di Casaleggio oltre le tante cose che abbiamo già detto e che abbiamo raccontato quando Casaleggio nel 2013 diceva questi sono i miei avatar lo disse a me per cui me lo ricordo perfettamente sono i miei avatar in carne e ossa quindi rivela tantissimo no detto ciò chiedo a Marco un pochino è accolto di sorpresa questa ribaglione da parte degli ex avatar rispetto a Rousseau e alla Casaleggio Associati si poteva immaginare che sarebbe successo voi che li avete frequentati negli anni passati che a un certo punto questi personaggi alcuni dei quali chiaramente miracolati trovatesi lì dentro a decidere le sorti del paese o provare a decidere le sorti del paese magari senza nessuna possibilità di riuscirci ma con l'idea che potevano riuscirci a un certo punto decidessero di cominciare a camminare con le gambe loro oppure una cosa che perché io penso che fosse prevedibile a me sembra strano che una persona che fa comunicazione non riuscisse a prevedere una roba del genere fa comunicazione fa consulenza non riuscisse a prevedere una possibilità del genere un pochino l'animo umano lo devi conoscere se vuoi fare quel mestiere assolutamente partendo faccio un piccolo commento al post di Casaleggio perché è veramente divertente ma rivela due cose secondo me la prima è che Davide non vuole sottoporsi ad alcun giudizio da parte di nessuno e quindi non accetta l'invito perché ovviamente teme a ragion veduta che gli si facciano delle domande a cui lui non può rispondere la seconda è che secondo me è una mossa abbastanza furba da parte sua perché non legittima questa iniziativa che non è una sua iniziativa è un'iniziativa di Vito Crimi e non legittimandola potrà in futuro secondo me molto 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 presto delegittimarla a sua volta dicendo io comunque non ho partecipato Russo non ha partecipato non è una cosa che abbiamo voluto noi qualunque cosa succeda qualunque sia l'esito potrà dire se l'esito non gli va bene questa non è una cosa ufficiale del Movimento 5 Stelle di Russo e io non ho partecipato perché non era una cosa a cui volevo dare la mia legittimazione detto questo per rispondere alla tua domanda la risposta è sì ovviamente era talmente prevedibile che io e Nicola nel libro che citava Nicola l'avevamo anche scritto noi avevamo detto la regola dei due mandati verrà messa in discussione nel momento in cui riguarderà Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista e infatti viene messa in discussione quando riguarda in maniera diversa Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista e devo dire anche Davide ovviamente che stupido non è, spregiudicato si sta approfittando dell'eredità politica e non solo del padre, sì ma non è stupido sapeva perfettamente che si sarebbe giunti a questo livello, a questo punto del problema di come gestire parlamentari che hanno passato nei palazzi dieci anni a 120 mila euro all'anno e rischiano di dover tornare a reddito zero per esempio nel caso di Luigi Di Maio perché un lavoro non ce l'aveva prima, quindi è ovvio che sarebbe successo anche Casaleggio lo immaginava, tant'è che ha preso le sue contromisure nel corso del tempo una di queste è per esempio essere sicuro di avere a disposizione il maggior numero di strumenti possibili anche comunicativi. Il blog delle stelle per esempio è intestato all'associazione Russo, non è intestato al Movimento 5 Stelle è di proprietà di Davide Casaleggio che ospita gentilmente le comunicazioni del Movimento 5 Stelle gli iscritti del Movimento 5 Stelle, c'è un dataset di iscritti che appartiene al Movimento 5 Stelle è sempre gestito al Russo ma appartiene al Movimento 5 Stelle ma c'è un secondo dataset di cui si parla poco che sono gli iscritti al blog delle stelle questo secondo dataset che probabilmente è abbastanza sovrapposto è quello che permetterebbe a Casaleggio, nel caso lo volesse di contattare direttamente tutte queste persone per comunicazioni da parte dell'associazione Russo e non del Movimento 5 Stelle perché il blog delle stelle è ufficialmente, in normativa sulla privacy pubblicata organo sia del Movimento che dell'associazione quindi Casaleggio ha tutto il diritto di utilizzarlo anche per le comunicazioni dell'associazione Russo e non del Movimento 5 Stelle insomma è una bella sfida quella che si sta consumando è abbastanza interessante perché come si diceva prima ci sono due visioni anche per il futuro di questo partito che si stanno scontrando una visione di governo e una di opposizione chiaramente la mia personale opinione è che l'obiettivo di Davide Casaleggio e di Alessandro Di Battista sia quello di riportare il Movimento fuori dall'area di governo per poter fare una legislatura e un fine legislatura a fine di questa legislatura e eventualmente la prossima all'opposizione perché ovviamente è molto più semplice fare politica dall'opposizione pur mantenendo i contatti necessari a Casaleggio per fare il suo business tra l'altro non ricordo se ne abbiamo parlato l'altra volta però conviene ricordarlo in ogni caso quando c'è stata quella famosa lettera di Casaleggio pubblicata sul blog delle stelle c'è stata la reazione di alcuni che di fatto gli hanno risposto che cosa ci fai qui dentro questo è l'organo di comunicazione del Movimento 5 Stelle non della Casaleggio Associati cioè sintomatico proprio alla luce di quanto ci raccontavi Marco cioè di una commistione di questo ibrido fra proprietà di uno utilizzo dell'altro e il proprietario che non può utilizzare cioè è veramente una situazione esplosiva sotto questo aspetto assolutamente ma guarda che noi il problema è che i parlamentari il gruppo dirigente di Roma del Movimento 5 Stelle si è fatto coglionare da Casaleggio questa è la verità quando è morto Gian Roberto e hanno ristrutturato il partito in modo che Casaleggio Associati formalmente non figurasse più tra gli enti che giravano intorno al partito e hanno condotto l'associazione Russo non si sono resi conto di aver dato in realtà a mano a Casaleggio tutta la buona parte degli strumenti che in questo momento lui sta utilizzando per fare campagna non è vero come dice Casaleggio che non sta partecipando agli stati generali è una falsità lui sta partecipando agli stati generali perché sono settimane che quasi quotidianamente pubblica sul blog delle stelle potendolo fare qui perché come dicevamo è un organo della sua associazione comunicazioni che vanno dal vecchi articoli di suo padre sue interviste su massimi sistemi democrazia diretta digitale a personaggi e attori internazionali che comunque gli danno una sorta di come dire non viene il termine insomma però autorevolezza ecco legittimità legittimità rispetto a quel pubblico addirittura ha pubblicato un pamphlet che ha chiesto agli utenti di integrare con che riassumeva la storia del movimento i principi del movimento e a un certo punto diceva guardate che Vito Crimi è in scadenza il 31 dicembre quindi altro che sia partecipato agli stati generali ha influito pesantemente ha influenzato pesantemente gli stati generali tant'è che nel posto di stamattina ricorda o meglio fa capire che i verbali delle riunioni locali e insomma il mood della base è quello di mantenere assolutamente la regola dei due mandati di non toccare i principi originali del movimento e così via quindi altro che sia partecipato ecco volevo chiedere allora oggi cominciano domani ci saranno le varie dichiarazioni se ho capito bene io non credo che ci sarà la spaccatura oggi ma credo che la spaccatura resterà latente fino a fine legislatura fondamentalmente sono d'accordo gli schieramenti sappiamo di Ribattista che rappresenta un pochettino forse l'anima quella originaria o vuole rappresentare che lo rappresenti o che lo voglio rappresentare non lo so ancora è la corrente paracula si chiama corrente paracula corrente tengo famiglia come ebbe a dire Gallo Cedroni in un'assemblea con i parlamentari dice ma io tengo famiglia devo avere un lavoro con tutto quello che ho fatto per il movimento quindi la corrente tengo famiglia perfetto perfetto allora c'è la corrente tengo famiglia poi c'è la corrente Di Maio Forlaniana a me Di Maio fa pensare a Forlani che sono d'accordo con Marco fondamentalmente a parte il fatto che forse non è mai stato non ha mai fatto un reale passo indietro rispetto alla sua vecchia posizione di capo politico perché comunque il politico più in vista è quello che si fa vedere di più è quello che ha sempre parlato tra l'altro i suoi iscritti anche da ministro degli esteri infatti una colpa che faccio una delle tantissime colpe che faccio Luigi Di Maio è quello di aver fatto molta politica interna per il partito e quasi nulla quasi zero su questo sono incazzatissimo politica come ministro degli esteri poi che cosa succede allora posto che ci sono questi due elementi che oggi che saranno separati in casa ma non si separeranno di fatto perché bisogna portare a termine una legislatura ci sono altri come dire guastatori all'interno del panorama del movimento oppure si polarizzerà tutto su queste due anime Nicola è l'utilizzo di queste due anime che verrà fatto dalla platea dei parlamentari soprattutto quelli più più importanti che ci dovrebbe far riflettere chi utilizzerà Di Battista per esempio per scalare il movimento e chi utilizzerà Di Maio per avere qualche protezione e qualche favore politico è tutto lì io per esempio mi immagino che se Di Battista dovesse entrare in questo organismo con questa segreteria per usare un termine assai obsoleto sicuramente vorrà riprendersi lo spazio mediatico che gli manca ormai da due anni e sarà divertente in questo senso vedere il suo attivismo mediatico appunto cioè lui sicuramente chiederà un incontro con Conte per esempio e siccome il ragazzo non ha molti limiti chiederà un incontro magari anche con Mattarella spiorando il ridicolo chissà magari chiederà anche un incontro col Papa che è uno dei suoi pallini uno dei suoi sogni bagnati di Battista il ghevarista che incontra il Papa dei poveri perché poi l'uomo è fatto così è uomo di comunicazione quindi questo vuole e questo avrà in questo senso potrebbe esserci qualche cortocircuito dentro il governo sì però rimane rimane il fatto che che io almeno mi auguro che con quello che sta succedendo in Italia e anche un po' nel mondo la sponda politica che secondo me potrebbe trovare in Conte magari fra qualche mese gli potrebbe venire meno e questo scombusselerebbe ancora di più il il panorama però c'è da dire una cosa che c'è da chiedersi quanta davvero quanta legittimità i parlamentari daranno a quest'organo a questa segreteria perché può essere che se ne fregheranno altamente di quello che questa segreteria dirà o vorrà fare ancora una volta insisto su questo fatto sarà la politica estera a spaccare il movimento ciò non significa che ci sarà una scissione ma che lo spaccherà profondamente così come l'evento del muro di Berlino i cui scricchioli si sentivano da anni ha portato alla fine del del più importante partito comunista dell'Occidente e così secondo me diciamo la lotta la lotta quella sorta di guerra civile americana che si espanderà in tutto il mondo fra fra il populismo trampiano e le forze che gli si oppongono non lascerà il Movimento 5 Stelle diciamo privo di conseguenze secondo me sarà lì il momento così come sarà lì il momento della comunicazione cioè se un professore di una certa età come Cassese da mesi si lamenta nei suoi articoli ospitati dal Corriere della Sera che la legittimazione di un governo è anche data dalla sua comunicazione vuol dire che anche quello sarà un problema gigantesco in Italia i direttori dei giornali rimangono e i comunicatori passano e penso che questa regola ancora vale anche perché vai vai no no per integrare quello che diceva Nicola sulla politica estera andiamo sul concreto il ministro degli esteri che è Luigi Di Maio ha un problema esterno ed interno che riguarda lo stesso tema perché nel 2017 l'allora ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden scriveva su Foreign Affairs un articolo in cui affermava che tra i partiti che il regime di Putin ha aiutato in Europa nel corso degli anni dal punto di vista logistico ed economico c'erano la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle ora il ministro degli esteri si trova nella non facile posizione di dover convincere il nuovo presidente degli Stati Uniti di aver scritto cazzate e si trova nella posizione di doverlo fare smettendo il suo compagno di partito che insidia la sua leadership che in una riunione riservata del Movimento 5 Stelle in vista del referendum nel 2016 che è quello a cui si riferisce Biden in quell'articolo e parlo di Alessandro Di Battista diceva perché non ci facciamo aiutare dai nostri amici dell'ambasciata russa con tutto quello che abbiamo fatto per loro e lo faceva e diceva queste parole nel momento in cui a Milano il proprietario del suo partito attraverso siti da lui controllati tramite la sua azienda ripubblicava rilanciava articoli e filmati di RT di Sputnik insomma il ministro Di Maio si trova in una posizione molto complessa molto difficile perché deve bilanciare i suoi interessi i propri interessi gli interessi del proprio partito e quelli del paese nei confronti del Presidente degli Stati Uniti Abbiamo non ce ne facciamo mancare uno abbiamo un problema enorme abbiamo un problema di una persona che appunto se dovesse smettere di fare il lavoro che sta facendo tornerebbe a fare nulla che naturalmente si è innamorata della posizione di enorme prestigio enorme visibilità che ha raggiunto che non la mollerà mai ma che ha un passato molto recente di cretinate clamorose che non sempre riescono a essere cancellate o dimenticate mi riferisco naturalmente al carissimo carissimo Di Maio e poiché la credibilità di un paese si gioca molto sugli rapporti con l'estero questo rappresenta veramente un problema un problema gigantesco secondo voi la pezza può essere Conte secondo me no anticipo la mia risposta però Conte non ha un passato di movimentista politico a incontrare gile gialli oppure amica Conte non ha un passato Conte non ha un passato Conte non ha un passato semplice questo è il paese in cui non c'è una persona che può dire che può raccontare se non un inner circle strettissimo come mai Conte viene portato a Palazzo Chigi perché sulla base di quale ragionamento questo è un mistero ma è un mistero vero non è una puttanata da social perché chi è e perché viene lì riconfermato io ricordo che Zingaretti più volte durante le trattative di governo fece trapelare alla stampa quindi a tutti che trattiamo col movimento ma Conte no ci vuole discontinuità e poi ce la siamo me lo ricordo sì questa questa è una domanda ancora in evasa per esempio e comunque come dici tu Costantino no non sarà Conte la toppa che risolverà ecco perché io ho un'altra idea io ho un'altra opinione di Luigi Di Maio anche perché l'ho conosciuto Luigi Di Maio per esempio ha fatto dei passaggi fondamentali pubblici per esempio ha incontrato Mario Draghi e quello era un chiarissimo segnale a Palazzo Chigi ma soprattutto un chiarissimo segnale all'establishment cioè io non faccio altro sono altro sto cercando un'altra strada potrebbe essere anche questa l'exit strategi di Maio per esempio io ripeto al posto suo al posto suo avrei fatto due tre giorni fa già una telefonata al presidente eletto per chiarire quali erano i termini della questione e quindi immagino raccontare al presidente eletto a Biden guarda che noi siamo messi così una volta dovevamo fare una cosa e adesso però sappi che io sono una persona diversa il punto però è che noi tutti guardiamo qui c'è un difetto proprio di piccineria di provincialismo siccome noi italiani non riusciamo a togliersi dalle secche allora guardiamo a questo signore di una certa età che ha avuto una bella carriera politica come Joe Biden guardiamo a lui come il salvatore che ci tiri fuori da questo disastro ma questa è una cosa profondamente sbagliata anche perché un tempo le attenzioni che erano anche economiche finanziarie culturali che gli Stati Uniti davano all'Italia sono è una vecchia storia è una storia del passato l'Italia in quel momento nello scacchiere internazionale contava e come e aveva anche una classe politica insomma coriacea questo va detto ma senza mezzi termini certo assolutamente una classe politica con tutti i difetti ma era un'altra era un'altra storia era un'altra storia per cui quanto contiamo noi adesso nulla il primo il primo sgarbo se proprio vogliamo ricordarlo ma il primo sgarbo per esempio sulla Libia che ha creato una valanga di problemi l'ha fatto l'amministrazione democratica Hillary Clinton quando era segretario di Stato con quel disastro creato in Libia a cui qualche italiano ha contribuito insomma e quel disastro è rimasto tale un disastro a cui noi l'Italia che vantava una diplomazia fra le più rispettate al mondo non ha saputo mettere mano ecco questo è stato un grave un gravissimo errore una gravissima mancanza del ministero degli esteri che non è solo Luigi Di Maio è composto da centinaia da migliaia di persone per esempio certo quindi noi ci dobbiamo chiedere non solo quanto ci meritiamo ma quanto valiamo sul piatto geopolitico per essere fra virgolette salvati e tra l'altro ricordiamo che in settimana c'è stato un vertice europeo ristretto in cui i nostri rappresentanti non c'erano c'era la Merkel naturalmente c'era Macron c'era Kurz il nostro presidente del consiglio non ha partecipato la nostra il nostro perché tu sei perché tu sei evidentemente un miscredente senza Dio stava aprendo le letterine dei bambini su Babbo Natale non aveva tempo è giusto è giusto è un fatto di priorità hai ragione hai ragione è un fatto di priorità scusami no 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 va benissimo va benissimo questo rende perfettamente plasticamente l'idea della situazione in cui siamo tra l'altro dovremo fare una puntata sulla comunicazione prima o poi perché io voglio sentirevi parlare di Rocco Casalino io vi voglio sentirevi parlare di Rocco Casalino io tirerò fuori l'immaginetta di Marina La Rosa così facciamo chiudiamo come dire un esorcismo esatto esatto a me piacerebbe con molto con molto con molto piacere ho dei ricordi molto vividi di Rocco Casalino ma vi chiedo una cortesia invitate anche quei poveri colleghi che tutti i giorni di carta stampata delle radio e della televisione che tutti i giorni hanno a che fare con la comunicazione di Palazzo Chigi perché insomma almeno magari gli mettiamo un sacchetto tipo collaboratore di giustizia in pericolo garantiamo l'anonimato ma li facciamo parlare garantiamo l'anonimato ma raccontateci raccontateci le avventure di Rocco e Babbo Natale per favore e di Tommaso il bambino di cinque anni e di Tommaso sì allora che cosa Marco cosa uscirà da queste due giorni posto che mi pare che siete d'accordo con la mia idea che quello che uscirà sarà come dire la foglia di fico perché bisogna tirare tirare mannanz come si dice a Napoli fino a fine legislatura ma la realtà quello che non si leggerà sui giornali quale sarà probabilmente i due partiti la spaccatura tenuta insieme con con la colla del potere perché non si può fare diversamente adesso e come reagirà Davide Casaleggio a partire dal lunedì sono d'accordo secondo me si troverà una soluzione che permetta alla legislatura di continuare così come stanno davanti adesso quindi con un governo attrae un movimento 5 stelle in cui pedifa la stampella e senza grossi scossoni almeno per qualche per qualche tempo probabilmente la deadline sarà la fine di questa crisi sanitaria perché è chiaro che finché c'è la crisi sanitaria nessuno si assumerà la responsabilità di precipitare il paese anche in una crisi politica grave e per fortuna però nel momento in cui la crisi sanitaria sarà risolta i nodi verranno veramente al pettine nel frattempo nel movimento 5 stelle ci sarà una sorta di armistizio difficile probabilmente da tenere in piedi perché c'è stato il fuoco in questi casi come si sa regge male spesso Casaleggio continuerà a fare la sua campagna e probabilmente i parlamentari nel frattempo si trova una soluzione che darà il tempo a ciascuno di riorganizzare la propria area per davvero arrivare alla resa dei conti poco prima delle elezioni io non so se mi sento di azzardare previsioni sull'esito a lungo termine sono certo che Davide Casaleggio farà qualunque cosa pur di non perdere la sua influenza e i suoi contatti nel palazzo perché sono quelli che gli permettono di lavorare detto molto chiaramente Casaleggio Associati ha sempre dovuto contare sulle proprie relazioni per lavorare è un'azienda che è il perfetto blueprint del capitalismo all'italiana cioè funziona esatto funziona grazie alle relazioni è nata grazie alle relazioni che Gianroberto Casaleggio aveva acquisito nel corso della propria carriera si è è cresciuta grazie alle relazioni che gli ha portato prima prima appunto Casaleggio poi Grillo quando ha conosciuto Grillo ovviamente si è aperto un mondo il accordo commerciale con Di Pietro arriva grazie alle intercessioni di Grillo all'epoca e da quel momento grazie alla politica Casaleggio Associati ha potuto fare business ha avuto clienti da grandi banche a ministeri a partner tipo poste italiane aziende di stato o a controllo statale insomma senza senza gli agganci senza le relazioni a Roma Casaleggio Associati difficilmente riesce ad andare avanti col proprio business quindi Casaleggio ovviamente farà di tutto per mantenersi un posto a tavola che potrebbe anche essere un posto all'opposizione anzi secondo me lui preferisce di gran lungo un posto all'opposizione perché è ovviamente molto più semplice ed è anche più semplice restare un po' fuori dai riflettori se stai all'opposizione certo un'altra cosa che mi viene in mente poi ci avviamo verso la conclusione oggi c'è un capo politico abbastanza impalpabile capo politico insomma una persona che viene chiamata capo politico dei videocrimi sarà questa l'occasione per individuare una figura magari un po' più spendibile da un punto di vista mediatico oppure resta tutto così perché è meglio mettere la coperta bagnata e aspettare il tempo in cui i conti andranno fatti guarda io sono convinto di una cosa mi sono convinto di una cosa in questi anni che sono stato coinvolto prima nella costruzione di questo partito e poi come osservatore in generale della politica le leadership non vengono quelle leadership calate dall'alto e decise a tavolino anche se decise tra i vari attori che ambiscono quella posizione non funzionano semplicemente non funzionano perché le leadership emergono non vengono costruite la leadership di Di Maio emerse dall'organo collegiale che doveva servire a tutt'altro cioè a togliere casaleggio dal partito ancora nel 2014 e poi fu un veicolo per Di Maio per diventare capo politico ci sarà se ci fosse se l'outcome di questi in questi due giorni fosse un organo collegiale andrà esattamente allo stesso modo ci sarà per un due tre giorni e viva abbiamo l'organo collegiale non c'è più il capo politico dopodiché la leadership di Alessandro Di Battista e quella di Di Maio cominceranno a scontrarsi e tra i due emergerà quello che secondo me avrà l'appoggio della struttura che è quello di Casaleggio però vuol dire non penso che perfino la leadership di Di Maio che fu salutata con con un po' di dileggio per il modo in cui fu annunciata e come dire ufficializzata con la votazione come dire bulgara su su Rousseau in realtà era una leadership che è stata che è emersa nel corso degli anni grazie al modo in cui Luigi si è relazionato con i suoi colleghi e il modo in cui ha interpretato il proprio ruolo di vicepresidente della Camera e così via Casaleggio quello che sbaglia è cercare di che poi è quello che sbagliava anche suo padre pensa che le regole possano essere utilizzate per determinare l'esito delle decisioni non è così certo che se come sembra dovesse riemergere e ritornare dai suoi reportage in giro per il mondo di Battista e quindi riemergere come figura mediaticamente spendibile sarà molto interessante vedere un partito ancorato con tutte le proprie forze alle leve del potere e dall'altra parte figura di spicco del del movimento uno che invece fa opposizione ma perché ideologicamente di opposizione perché appunto è un questo però è stato da sempre uno dei capolavori mediatici di Casaleggio padre soprattutto pensa come è stato composto questo presepe no? Di Maio il bravo ragazzo compito riflessivo che dà questa sensazione di ambizione educata poi c'era il mezzo ghevarista che piaceva le ragazzine che infatti tentava di andare lì dalla De Filippi e roba del genere poi c'era il descamisados napoletano Roberto Fico poi c'era la donna in carriera determinata Carla Ruocco c'era la borgatara sanguigna come Paola Taverna in effetti dal punto di vista della comunicazione il movimento ha fatto un capolavoro ha fatto un capolavoro teatrale non politico ovviamente meno che mai per il bene di questo paese però questo c'è sempre stato il fatto è che noi stiamo vivendo tempi straordinari anzi ancora peggio a noi aspetteranno tempi straordinari e quindi adesso ragazzi non si scherza più abbiamo visto come il consenso del presidente del consiglio e come la sua comunicazione è arrivata a mostrare la corda davvero è crollato quasi di 30 punti il consenso non hanno più non hanno non hanno più quell'autorevolezza che incredibilmente questo sfortunato paese invece gli consentiva di avere la cosa che mi colpisce è quando uomini della comunicazione mainstream iniziano a punzecchiare il governo in carica guardiamo il titolo del libro di Roberto Saviano per esempio lui che è stato sempre in questo senso politicamente corretto non è una critica a Roberto che ho conosciuto molti anni fa quando era solo Roberto adesso ovviamente è la star della comunicazione che tutti conosciamo però è indicativo che uno come lui non tenga il fuoco sotto controllo ma anzi venga fuori con quel titolo proprio urlato certo ma Nicola io si tolgnavo un paio di settimane fa come nel giro di pochissime settimane siano cambiati i due principali quotidiani nel loro atteggiamento i due principali quotidiani italiani nel giro di pochissime settimane Corriere e Repubblica hanno cambiato totalmente comunicazione nei confronti del governo prima di fatto anche nelle peggiori situazioni c'era una sorta di giustificazione a un certo punto sono partite le critiche a raffica quasi quotidiane manco stessimo parlando non del Corriere ma piuttosto di un giornale vicino alla Lega il giornale adesso non dico libero quotidiano che un po' troppo però è clamorosa questa cosa è visibile secondo me è anche sbagliato chiederci perché la domanda giusta è fino a quando questa storia può durare fino a quanti morti fino a quante inefficienze fino a quanti schiaffi in faccia perché fare quelle robe lì sulla sanità della Calabria per esempio è chiaramente un disastro politico organizzativo e comunicativo per esempio ci sono ed è evidente dei ampi settori del nord Italia che da un lato si sono scocciati da tempo della retorica salviniana ma si sono resi conto che dall'altra parte non c'era nulla e quindi come vedi appunto questi questi c'è un orologio che ha ripreso a far scorrere le sue lancette e a far capire che voi potete durare perché avete il covid come migliore alleato ma poi questa storia questa storia finirà e quindi secondo me anche per questo anche per appunto motivi enormi il il progetto di Luigi Di Maio muterà in corso in corso d'opera ma è destinato ad andare lì perché in questo momento il populismo alla Trump può prendere negli Stati Uniti come è normale che sia decine e decine di milioni di voti in Europa è un po' più complesso in Europa è un po' più complesso e anche il fatto stesso che il Movimento 5 Stelle per esempio non ha una casa europea dove dove lavorare e ci raccontano i nostri colleghi inviati a Bruxelles che hanno bussato ai Verdi e i Verdi gli hanno chiuso la porta in faccia e diciamo possiamo dirlo non rivelo un segreto qualche esponente verde ha letto il sistema casareggio il libro mio e di e di Marco hanno bussato scusatemi alle porte di Macron che gli ha detto sì iniziamo a parlare hanno bussato anche alle porte del Partito Socialista Europeo insomma vuol dire che hanno capito che non la terza via del Movimento la via gialla no non sono stati in grado di portarla avanti e questo secondo me è un grande fallimento politico certo andrei veramente alla conclusione perché Marco vuoi aggiungere qualcosa lascio a te la conclusione poi parlando con voi mi vengono sempre degli spunti allora il primo l'abbiamo detto dobbiamo parlare assolutamente della sistema di comunicazione affidato a Rocco Casalino la seconda secondo me dobbiamo provare almeno provare a dare una risposta alla domanda che faceva Nicola poco prima da dove viene fuori Conte questa è un'epoca comunque bene o male segnata dalla figura di questo personaggio che spunta dal nulla e che acquisisce un potere praticamente anche per effetto della situazione straordinaria legata al Covid acquisisce un potere che è esterminato di cui i confini non si vedono quindi lascio a te la parola e poi cominceremo a lavorare su questi due temi per le prossime puntate sì ben volentieri ma io concludo lasciando un altro paio di come dire elementi per valutare lo scontro in atto nel Movimento 5 Stelle entrambi riguardano Casaleggio il primo è che dunque noi vediamo nel campo di Italia Viva per esempio del Partito Democratico che c'è un'inchiesta che riguarda la fondazione Open che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati i Renzi Boschi e Lotti per appunto il modo in cui veniva gestita quella fondazione che era una fondazione politica che operava in maniera chiarissima per la corrente di Renzi organizzava manifestazioni la Leopold e così via e sono finiti sotto intagine per il modo in cui hanno gestito perfetto vedremo come si svolgerà il processo se ci sarà un processo e così via insomma non mi sembra nulla di particolarmente strano si è aperto un fascicolo per una vicenda diciamo simile a Milano per un finanziamento di 120.000 euro all'associazione Rousseau quindi comincia a diventare problematico anche dal punto di vista giudiziario alla posizione di Davide Casaleggio per riassumere brevemente questo finanziamento era le rimanenze dei fondi che gli attivisti avevano versato al comitato promotore di Italia 5 Stelle Rimini nel 2017 che sono finite nelle casse di Rousseau come da statuto di quel comitato promotore il problema è che chi effettuava la donazione secondo i ricorrenti che hanno fatto la segnalazione insomma i donatori non sapevano che sarebbero finiti di quei fondi non era stato precisato non era stato comunicato che le rimanenze sarebbero comunque insomma ci si comincia ad interessare di Casaleggio anche sotto quel profilo e l'altro è il profilo del conflitto di interessi Nicola è più informato di me su questa vicenda che riguarda Philip Morris ma ci sono un paio di clienti di Casaleggio uno è Philip Morris e magari Nicola se vuoi continuare tu su questa cosa e l'altro è Mobi che hanno interessi nel promuovere normative e per questo si rivolgono a Casaleggio quindi la vicenda di Mobi è abbastanza nota c'era onorato che ha finanziato sia Grillo che Casaleggio per delle consulenze chiedendo di promuovere una normativa che andava a suo ruolo Marco quando abbiamo registrato l'altra volta abbiamo parlato di questa vicenda Philip Morris una manina mi ha girato un documento quindi poi poi magari ne parleremo va bene lo tirerò fuori perché 24 ore dopo una manina misteriosa mi ha girato un documento che riguarda proprio la vicenda di quella votazione esatto esatto Nicola vuoi aggiungere qualcosa su questo così andiamo alla conclusione Nicola è curioso con una scimmia adesso altro che no no io vi ascoltavo io sto chiudendo un'inchiesta che si chiama la guerra italiana del tabacco e che proverà a raccontare a mettere ordine in una valanga di informazioni che sono state diciamo spezzettate in maniera tale da non far capire al grande pubblico di che cosa stiamo parlando proverò a chiuderla e magari poi ovviamente verrà sottoposto al giudizio dei lettori e di tutti voi vedremo che ne uscirà fuori mi taccio molto bene allora direi che siamo nei tempi adesso guarderemo con interesse l'evoluzione di questi due giorni ci aggiorneremo per vedere se le nostre previsioni saranno saranno state corrette perché poi settimana prossima comincia una settimana molto intensa sotto il profilo delle scelte di governo aggiungo per quelli che in Liberi Oltre cercano soprattutto informazione economica che ho avuto modo di leggere ieri è stata una faticaccia le oltre 200 pagine della bozza di legge di bilancio non dico niente ma la mia faccia dovrebbe essere a me è arrivata ieri sera e ho deciso di cenare lungamente hai fatto bene bere mangiare stare con mia moglie ho fatto bene hai fatto bene hai fatto bene a me è arrivata ieri nel primissimo pomeriggio ci ho passato diverse ore tanto è vero sono anche sparito dai social e una buona parte è da riscrivere vi dico soltanto questo un'altra parte non si rende conto della situazione in cui l'economia italiana è ma non non mi aspettavo niente di meglio niente di diverso devo dire la verità la grande preoccupazione che tra l'altro è espressa da un paio di parlamentari con cui ho parlato ieri sera è anche il fatto che dovendola fondamentalmente rimaneggiare e riscrivere loro sono preoccupati per un altro elemento esattamente come è avvenuto l'anno scorso e l'anno prima ancora il Parlamento non avrà il tempo di metterle mani esatto il tempo il tempo c'è un fattore tempo è perché sapete il maxi emendamento che si fa il 30 di dicembre questo è il pacchetto se non vogliamo andare in esercizio provvisorio e mai come quest'anno non possiamo sbornetterci l'esercizio provvisorio saranno costretti quindi andremo in esercizio provvisorio praticamente no ma accadrà che allora se a meno che non fanno un miracolo nell'utilizzo del poco tempo che hanno a disposizione il Parlamento non potrà di fatto se non leggere le relazioni illustrative di quanto previsto il legge di bilancio e quindi voteranno a scatola chiusa fondamentalmente questa è la situazione data l'emergenza che stiamo vivendo questo passa il convento però ripeto ci sono alcuni capitoli di questa bozza di legge di bilancio che veramente sembrano scritti da un ubriaco comunque va bene Marco e Nicola io vi ringrazio come sempre abbiamo già due appuntamenti stabiliti adesso vediamo quando incasellarli nel paninsesto è sempre divertente parlare di queste cose drammaticamente divertente un po' l'opera buffa va bene grazie ancora grazie buona giornata ciao ciao ciao